musica 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 stai pronto? ciao bello! ciao ragazzi SIVA Center per informarvi sulle nuovissime maglie magliette SIVA che vengono in diversi colori vari modelli e fantastici prezzi wow no non siamo interessati grazie ma sei sicuro le maglie SIVA includono colori arrapanti e disegni innovativi guarda un po' scusa c'era il telefono la dentiera notty dog il paninaccio la ciambella è lo stesso di prima ma non è fantastico? wow! beh in effetti non sembra poi così male ma quanto ha detto che vengono? a soli 44 euro e 99 vabbè dai faccio 45 euro beh le idee mi piacciono ma sai io sono un originale mi piace distinguermi dalla massa non potrei avere che so un modello personale personale è certo che puoi per soli 5 euro in più si può aggiungere a scritta o cambiare un colore mentre che con un'aggiunta di 20 euro si può ottenere un modello completamente nuovo solo per te quindi in pratica se vuole che mi stampiata una maglia con che so una psicologa dai capelli rossi e e e e un sovietico pazzo e un nevrotico schizzato me la fate? è ovvio! ehm si senta però sa siamo al cambio di stagione le maglie vanno ancora bene ma ci vorrebbe qualcosa di un po' più estivo che so una maglietta ma che pensi che non ci abbiamo pensato? per soli 25 euro si può ottenere una maglietta si viva! con gli stessi modelli delle maglie no mi piaceva più quello che io e che pensi che non ci abbiamo pensato? per soli 25 euro si può ottenere una maglietta si viva! con gli stessi modelli delle maglie per me fai già eh ma è magnifico si si credo prima che mi ordinerò una quando è che posso ordinare? bene è tu che aspetti a far parte di una grande famiglia di si viva chat e ora vado che me ne serve una anche a me contattacisi su facebook ci trovate a questo numero ciao ragazzi ciao 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 ciao